Allora, questi Comedian, che cosa ci fanno vedere? Ah, i Comedian quest'anno hanno fatto una commedia molto esilarante, si chiama... come si chiama? Pareventanza la Grazia. Che sarebbe? Sembravano quelli che non erano praticamente. Sicuramente, è una commedia molto ironica, diciamo basata su degli equivoci, degli equivoci e dei colpi di scena. No, no, non lo svegliamo tanto, la devono venire a guardare, la devono venire a vedere, perché se ti dici qualcosa di un giallo è come dire che l'assassino è il maggiordomo, no? Diciamo che tutto parte da un nodo di una cravata che non funziona. Esatto, da un nodo della cravata, dici che non ce la fai a farlo, da lì si snoda tutta la cosa. E perché venirvi a vedere? Perché? Perché facciamo ridere un bel po'. Io parlo spagnol, io so il venezuelano. E già lì il Venezuela, eh? E già il Venezuela dice qualcosa, cosa c'è in Venezuela? Ma! Qualcosa di bianco? Ma! Ma! Facciamo un appello in dialetto a venirvi a vedere. Un appello? No, io volevo dire, siccome è caldo, all'estate, invece di stare a casa, venite qui al teatro, all'arena BCC, che così è fresco. Guardate, una bella comedia, è simpatica, esilarante, gli attori, d'altronde, sono bravissimi, la Cristina, Daniele, tutti. Sì, voglio dire, veniteci a vedere, ecco, cosa devo dire? Non lo so di più. Il dialetto è bello, fa ridere, e poi, di te. Niccia veda che si ingegnai un bel po'.